Entra su una questione specifica che è sicuramente rilevante ma non è esaustiva e non si affronta la questione che secondo me è principale che riguarda i tempi del processo da un lato e anche penso alle garanzie dell'imputato nell'ambito del processo e poi un tema che secondo me resta sullo sfondo e che è stato completamente rimosso anche da quelli che si definiscono garantisti che sono le modalità di esecuzione della pena sta ritornando a crescere il numero dei detenuti e il sovraffollamento la vecchia ipotesi di riforma del sistema penitenziario è stata accantonata dal governo giallo-verde non è stata ripresa nella discussione attuale e nel frattempo io credo che abbiamo una situazione della quale ci dovremmo iniziare a preoccupare perché il rischio è di riandare nuovamente sotto la lente di ingrandimento della Corte di Strasburgo e di ritornare in una lista nera dalla quale eravamo usciti e questo io credo sia un punto che è stato completamente rimosso che chi si richiama al garantismo dovrebbe affrontare ma tornando alla questione del processo bisognerebbe aprire una discussione che non sia tu solo puntata su questa questione della prescrizione che riguarda un aspetto che è quello della come si evita che il processo penale sia sovraccaricato cioè il processo penale oggi in Italia si occupa di troppe questioni e questo inevitabilmente crea un rallentamento e manda anche in qualche modo in tilt l'obbligatorietà dell'azione penale perché se tu hai un numero enorme di procedimenti che devi portare avanti alla fine scegli quali portare avanti e quali no e questa è una delle cause poi della prescrizione al di là di come la disciplini poi quindi io credo che si dovrebbe parlare anche di questi temi per quello che riguarda la prescrizione e per ricordare come si arrivò a quella allora nel 2013 il Partito Democratico aveva lo dice Bonafede dice la verità però salta qualche pezzo aveva nel proprio programma la possibilità di interrompere cioè l'obiettivo di interrompere la prescrizione col primo grado di giudizio cioè come ha poi fatto Bonafede perché non si arrivò poi a sposare quella soluzione tu cura e si trova una mediazione ci si arrivò perché ci si rese conto che nel processo penale non hai in qualche modo una garanzia del fatto che a fronte dell'interruzione della prescrizione hai una certezza di celebrazione dei tempi del processo facemmo quello che si poteva in una maggioranza che aveva posizioni al suo interno anche diverse per provare a snellire introducemmo la tenuità del fatto perché consente di archiviare quando si tratta di reati di lievissima entità introducemmo un primo intervento di depenalizzazione rafforzammo i riti alternativi ma diciamo così non fummo in grado di dire a fronte dell'interruzione della prescrizione tu hai anche un tempo assolutamente certo di celebrazione del processo e evitammo quello che si rischia di determinare oggi cioè che a interruzione del processo tu in qualche modo interruzione della prescrizione tu hai un processo che non sai quando finisce questo è il problema di fronte al quale ci troviamo oggi come si può risolvere? o mantenendo l'impianto della prescrizione così come era stata riformata col mio intervento cioè sostanzialmente dicendo nel caso di condanna tu hai un bonus ma non hai una sospensione infinita cioè sostanzialmente allo Stato viene riconosciuto più tempo di quanto era previsto sulla base del reato ma con un limite ma con un limite e questo è quello che è in vigore oggi oppure l'altra strada che io credo sia e poi come dire e questi fattori li puoi combinare in modo diverso aumentare un po' il limite insomma ci sono bilanciamenti diversi che puoi cercare oppure l'altra strada che io credo sarebbe la più razionale è quella di trovare da un lato realizzare un forte intervento di snellimento del processo di rafforzamento dei riti alternativi e questo devo dire che la riforma Bonafede in qualche modo lo prevede ma d'altro canto avere in qualche modo una garanzia che se il processo si protrae oltre un certo limite ci sono delle garanzie e degli strumenti di tutela per l'imputato diverso dalla prescrizione mi spiego sì le ipotesi possono essere diverse in Germania c'è la possibilità di ridurre progressivamente la pena nel caso più passa il tempo in alcuni paesi ci sono forme di prescrizione processuale che sono associate alla prescrizione sostanziale cioè il reato si prescrive in 8 anni ma il processo deve finire entro 8 se no si ecco oppure ancora Bonafede stava lavorando su questa ipotesi rafforzare molto il disciplinare nei confronti dei magistrati quando i magistrati in qualche modo tengono il fascicolo vanno oltre io ti do 5 anni per esaurire quel procedimento in questo caso i magistrati di secondo grado perché ricordiamoci che il problema riguarda dalla condanna di primo grado in poi questo è io credo il lavoro che noi dovremmo fare ma è un lavoro che non si fa io su questo mi permetto di sentire dalle modalità che sono state sostenute fino a qui non si fa con gli ultimatum non si fa con le può venire addirittura fuori qualcosa di buono anche dal punto di vista del sistema garantistico perché si può creare un processo che effettivamente dia anche più strumenti all'imputato il problema è spostare l'attenzione a 360 gradi e non limitarla soltanto al tema della prescrizione perché la prescrizione è uno degli elementi di riequilibrio del processo non l'unico e contemporaneamente questo è chiudersi in una stanza e uscirne quando si è trovata in qualche modo una quadra non si può tutte le volte dare un tempo entro questo giorno bisogna trovare questa mediazione ma noi non transigeremo rispetto a questa posizione e noi non transigeremo rispetto a quest'altra alla fine si fa un regalo immeritato alla destra dico immeritato non perché l'opposizione non debba fare il suo lavoro ma perché onestamente dare la patente di garantista della gente che ha fatto i decreti sicurezza che ha affossato la riforma del sistema penitenziario con i 5 stelle però con il voto di 5 stelle ci siete voi assolutamente no 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 certo che sì però sì io sono convinto del fatto che l'ingresso di nuove forze politiche nella maggioranza può riorientare in una direzione diciamo diversa anche l'intervento sulla giustizia ne prova ne è il fatto che non lo sta dicendo nessuno ma in queste ore al senato si sta approvando discutendo ed approvando il decreto sulle intercettazioni che il governo precedente aveva preso e messo su un binario morto quindi questo dimostra che se le forze diciamo così che hanno più attenzione al tema delle garanzie non fanno diciamo così solo azione di di scontro portano al tavolo delle proposte mantengono un grado di unità io sono convinto che si può arrivare a una mediazione questo vale anche per il ministro della giustizia? il ministro della giustizia difende la sua norma gli si può chiedere di cambiarla non gli si può chiedere di abbiurarla quindi io sono convinto del fatto che se è una mediazione bisogna fare in modo tale che ci si trovi diciamo così a un punto di equilibrio che non necessariamente ecco molti mi dicono ma insomma ma te non difendi la tua norma io la mia norma la considero un punto di equilibrio in una condizione data io penso che si può anche arrivare a un punto di equilibrio che per certi aspetti ha caratteristiche migliori mi spiego si potrebbe arrivare ad avere un processo che ha delle scansioni certe e questo è un bene sarebbe un bene per tutti perché è un bene per il cittadino che attende giustizia ma è un bene anche per l'imputato che deve sapere quanto dura il suo processo quindi la prescrizione è sempre in qualche modo un elemento come dire l'estrema razio perché la prescrizione è lo stato che alza le braccia e dice io non sono riuscito a fare il processo se accanto alla prescrizione si trovano altri strumenti non è una sconfitta del garantismo perché il garantismo può realizzare le sue finalità anche attraverso un processo penale che sia più equilibrato io penso per esempio che con il processo ci dovremmo occupare molto di come si rafforzano i poteri della difesa rispetto diciamo anche all'attuale situazione